Dallo scadere dei 24, magia assoluta di Jordan Bortolani. Bortolani dall'altra parte, il che ne riesco forse più bello della partita. Bortolani, solo putone. E' una gran palla per Diop, che appoggia dentro. Ma da grande lettura da parte di Mandiop, che poi si invola al vino dall'altra parte, piazza la Vimane. Diop, va a schiacciare. Stembeck, tiro da tre dell'ex Golden State Warriors. Adesso il tiro dal mezzo angolo, Nicko Mannion. Questa è una tripla importantissima. Schiacciabaglio indietro sul rimbalzo offensivo. Arriva la schiacciata del sorpasso. Perfetto, Lazis. E poi la grande virata di Gabriele Procida. Con la testa sopra il ferro. Una magia! Fatto spagnolo! L'incredibile remix al capellone!